Ciao amici, buon lunedì, buon inizio settimana, benvenuti nella cucina di Chef per Passione. Come state? Ci siamo separati per una settimanina, ci sono state le vacanze di Pasqua, avete mangiato abbastanza? Beh, noi non abbastanza perché comunque continuiamo lo stesso in perterriti a cucinare e ingrassare perché a noi della prova costume non ce ne può fregare di meno. Quindi, in realtà la ricetta di oggi se non fosse per il salume, quindi per lo spec, è abbastanza semplice. Non sapete che mi piace cucinare con pochi ingredienti ma poi presentarvi dei piatti, non vi dico gourmet, ma molto carini, carini per quando avete ospiti o volete conquistare il vostro amore o tante altre cose. Allora, vedete come sempre, appunto vi dicevo, pochi ingredienti ma buoni. Quindi, rivediamo quasi per l'ultima volta, diciamo, il topinambur perché poi non si troverà più perché non è più stagione. Abbiamo dei tranci di salmone che ho precedentemente tagliato e spelato, spec e mandorle e la paprika dolce. Quindi, è tutto molto facile. Mi avete già visto farlo più volte, quello di avvolgere il salmone in una fetta di un salume. Con lo spec non l'abbiamo mai fatto perché il salmone è molto dolce e lo spec è molto salato e quindi il connubio ci sta di brutto. Se vi piace il piccante potete tranquillamente sostituire la paprika dolce con la paprika piccante. Gli dà un tono. Visto che è tutto molto morbido, nonostante lo spec poi comunque in cottura diventerà abbastanza croccante, mettiamo proprio un po' di granella di mandorle che come ci ha insegnato il nostro ospite, che è andato il nostro personal trainer Michael di due settimane fa, mi hanno detto prendi sempre le mandorle con la buccia perché la buccia fa bene. Come fa bene la buccia del topinambur, infatti lo vado solamente a lavare perché non va nella maniera più assoluta spellato. Ok, quindi lo sciacquate bene passando così, no? Proprio la mano. Ora in questo caso lo facciamo bollire, non lo mangiamo crudo, quindi sarà anche più facile che si disinfetti un po'. Se lo mangiate crudo fate questo lavoro, ma poi magari passateci uno straccetto. Quindi non devo fare altro, come vi ho detto appunto, non assolutamente, non pelatelo. Lo tagliamo, adesso in questo caso lo taglio a pezzi un po' più piccoli perché dovrà bollire abbastanza in fretta. Il topinambur, come vi avete già, vi avevo già detto, però per chi non avesse seguito il programma in precedenza, non è altro che una radice che è molto versatile, versatile quasi come la patata, e a differenza della patata comunque è una radice che si può mangiare cruda, cosa che ahimè non mangiate la patata cruda, se no vi sentite male. Direi che questo mi basta. Come si dice, è molto versatile, vi dicevo, perché si può fare fritto, si può fare in crema, appunto si può mangiare crudo. Quindi salo leggermente l'acqua, così, e butto a bollire il mio topinambur. In questo caso farò una crema molto semplice emulsionandola con un pochettino di olio extravergine di oliva perché poi andremo a caricarla un pochettino con la paprika dolce. Ok. Molto bene. Adesso l'altaglio del salmone è abbastanza facoltativo, nel senso che se volete potete anche tagliarlo a listarelle. Dovete vedere voi come vi viene più comodo poi da avvolgere con lo speck. Allora apro un attimo prima lo speck. Lo speck io ora l'ho preso alla conad confezionato perché è tagliato della misura giusta. Se non lo trovate confezionato fatevelo tagliare abbastanza sottile in questo caso perché sennò poi è difficile da masticare perché una volta scottato potrebbe diventare un po' duro. Ok, il topinambur è dentro. Stiamo aprendo lo speck. e andrò ad avvolgere i miei bocconcini. Allora, vediamo un po'. Così. Li faccio non troppo grandi ma nemmeno troppo piccoli. Per intenderci direi che questa misura può andar bene. Potete, come vi dico sempre, utilizzare eventualmente anche un altro tipo di pesce. Questa è una cosa che si può fare con la ricciola. Si può fare colorata. Sempre che riusciate a tagliarla bene a bocconcini. Direi così. Ora vediamo per fare un piatto quanto ne uso. Userò i bocconcini migliori. Quindi, prendiamo lo speck. Così. e proprio lo adagiate. Tanto il salmone è abbastanza umido, no? Scusate ragazzi, avete ragione. Vi seguo io. Eccoci qua. Continuavo a spostarmi e in regia stavano impazzendo, sicuro. Così. Foderatelo bene, 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 bene. Facciate che prenda presa. E poi lo chiudete leggermente. Non vi preoccupate perché tanto poi si sigilla in cottura. Ok? Questo procedimento, come ben sapete, l'abbiamo già fatto con il guanciale, ma soprattutto con il lardo. La cosa positiva dello speck è che, a differenza del lardo, non si scioglie e lascia molto, molto sapore. Allora, aspettate che... Diciamo che può essere considerato questo proprio un secondo piatto, eh. A meno che non decidete di fare un antipasto, ma se decidete di fare un antipasto, mi raccomando, mettete tipo due bocconcini per persona a tavola. Non di più, eh. Quindi, sto cercando di fare in modo che i bordi siano il più appiccicosi possibile. Guarda, ne faccio quattro. E poi lo mettiamo un attimo da parte, così ci concentriamo. Quello che cerco di, tra virgolette, insegnarvi è quello di prepararvi sempre la linea. Quindi, tutte le preparazioni che necessitano di tempo, non fatele all'ultimo quando dovete servire in tavola. Vi preparate tutto bene la linea prima, come sto facendo io. E poi, avete... Non vi resta altro che cucinare. È tutto molto più semplice. Così. E ultima fettina di speck. Direi che quattro, se magari avete servito anche il primo, quattro possono andare, eh. Allora, così. Poi, è chiaro che se ne possono anche mettere sei. Però, considerate che avete anche la crema di topinambur. Comunque, il topinambur è bello sostanzioso, eh. Poi, se lo fate in crema, vuol dire che l'avete emulsionato con tantissimo olio, di olio extravergine. Insomma, potrebbe risultare poi un piatto pesantino. Allora, do una pulita veloce al tagliere. E mi occupo delle mandorle. Così, a quel punto, ci ritroviamo con tutto pronto, solo da cucinare e da preparare la crema, eh. Perché le mandorle poi andrò, una volta tirato fuori il salmone, la mandorla andrò proprio a tostarla nel grassettino che ci sarà nella padella. Quindi, non le taglio neanche troppo fini per non rischiare di poi di bruciarle, eh. Quindi, considerate sempre che in grafica avete la quantità per quattro. Invece, io sto facendo un piatto per una persona e non ho voglia di fare la sprecona trinciante. E andiamo a tagliarla grossolanamente, senza sminuzzarla troppo perché rischiate di farla bruciare poi in padella, eh. Così. Intanto alzo un attimo il fuoco del topinambur. Così nel frattempo va. Ok. Se reperite qualcosa di verde, un po' di prezzemolo, ma anche una fogliolina di basilico per impiattare, ho visto che in grafica non ve l'ho fatto scrivere, decidete voi, eh. Ci sta anche bene un bel filo da solo di erba cipollina, eh. Ok. Vedete, sto cercando il più possibile. Comunque mi piace questa cosa di lasciare la crosticina, la pellicina sulla mandorla. Effettivamente ti risparmia anche un casino di tempo. Ok, la mandorla così, tagliata così spessa, si sentirà proprio, eh. Poi adesso la mettiamo da parte. E la andiamo poi a saltare proprio leggermente, velocissimamente in padella. Io direi che andiamo in pubblicità, così abbiamo preparato la linea. Ho preparato, ho messo a bollire il topinambur, ho foderato i miei bocconcini di salmone con lo speck, ho tagliato la mandorla che poi andrà saltata in padella, quindi la mia linea è pronta e per finire il piatto ci vediamo dopo la pubblicità. Pubblicità. Pagliato. 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 Grazie a tutti. Eccoci siamo tornati per chi si fosse collegato adesso stiamo preparando un piatto un secondo piatto molto molto gustoso molto semplice uno dei piatti che ormai praticamente abbiamo fatto rifatto in tantissime varianti in questo caso si tratta di bocconcini di salmone foderati come mi piace a me di speck saranno adagiati su una crema di topinambura la paprika dolce e finiti con una specie di granella di peccato. Quindi di mandorla tagliata spessa e saltata poi nella padella dove avremmo saltato il salmone sembra una roba strusa ma in realtà è molto facile quindi cominciamo. Allora metto proprio un super filino di olio perché in tutto questo lo speck non è proprio il salume più grasso che c'è. Quindi facciamo come facciamo sempre e cioè allora ungiamo bene tutta la padella antiaderente aiutandoci con uno scottex. Così abbiamo sparso l'olio dappertutto nel frattempo i topinambur mi raccomando continuate a bollirli eh perché c'è già proprio anche l'odore di carciofo sono pazzeschi. Quindi il mio tumbler per fare la crema è qua l'olio me lo sono appena portato qua io direi che mettiamo anche un po' di pepe sale non è necessario perché il topinambur sta già bollendo con il sale. Aspettiamo proprio solo un attimo che prenda calore la nostra padella. Dicevo prima che se non vi piacesse il salmone o comunque preferite utilizzare un altro pesce potete utilizzare tutti i pesci che hanno dei bei tranci no anche con il pesce spada volendo si può fare. Occhio all'accostamento con i salumi perché dovete comunque scegliere un pesce dolce. Abbastanza dolce in bocca quindi occhio perché i pesci sono di base molto sapidi. Allora magari mettiamola dalla parte della chiusura così nel frattempo si dà una sigillata e utilizzando le pinze che spero dopo due anni di chef per passione voi abbiate comprato perché dai diciamoci la verità. Qualcosa ve l'avrò pure insegnata eh tipo ad usare le pinze. Quindi li facciamo andare un po' eh. Ricordatevi sempre che il salmone è al punto rosa quindi non è necessario stracuocerlo però in questo caso vorrei che lo speck prendesse un po' di consistenza eh. Vado a girare poi dopo se riusciamo li mettiamo un po' anche in punta. Però vedete che a differenza di un lardo che invece rilascia proprio il suo grasso in questo caso ce n'è poco perché ne ha solo un pochettino ai lati. Quindi sento con la bacchetta magica quando ho le pinze in mano vediamo un po' come siamo qua. Ci siamo quasi. Dicevo tra un po' questa roba qua non si troverà più però cominceranno le fave, gli asparagi, insomma un sacco di cose buone eh. Sono solo contenta di essermi liberata di tutti i cavolacei. Quante puntate con i cavoli, i cavolfioli e la verza abbiamo fatto in questa stagione. Moltissimi. Allora direi che continuiamo a girare e tra poco li mettiamo ai lati. Occhio, state all'occhio, non allontanatevi perché il rischio è che in un secondo di distrazione poi si bruci tutto eh. Quindi state, stateva corte, ok? Molto bene. Ora li metto su un fianco. Giusto per dare, ci stai però, un po' di croccantezza anche ai lati. Lo sento già, cioè sono proprio dei bocconcini croccanti eh. Quindi avrete una piacevole sensazione in bocca perché l'esterno sarà croccante ma l'interno invece sarà molto molto morbido. Sto facendo fare un po' tutti i lati. Vedo che riuscite a prenderli bene. Così diamo la possibilità al salmone in realtà di non stracuocersi eh. Questo non ci vuole stare, lo mettiamo così. Bellissimo. Stanno venendo buonissimi. Allora, vediamo qua come siamo, com'è la situ. Direi ancora un paio di minuti. E qui tra poco ci siamo eh. Adesso facciamo saltare le mandorle e per ultima prepariamo la crema. Ok. Li rimuovo. Ok. Adesso a padella bollente prendo una manciata delle mie mandorle e al volo le salto. Proprio devono prendere un po' di sughetto eh. E state all'occhio da qua, proprio non vi potete allontanare nella maniera più assoluta. Perché sennò si brucia tutto eh. Ok. Quindi andate di tostatura molto rapida e poi le tenete fuori dal fuoco ma nel padellino eh. Così nel frattempo si dorano e si tostano. Allora. Scoliamo il topinambur. Molto bene. E ne ricaviamo un po'. Uff. Non vuol venir via. Per fare la crema. Così. Allora vediamo qua. Vedete si sono tostate. A meraviglia. A meraviglia. A meraviglia. Prendiamo un po' di topinambur. Olio extravergine di oliva. E un pochino di pepe. Adesso con l'olio andiamo ad emulsionare eh. Quindi non aggiungete tutto subito. Perché vedrete poi cosa vi servirà eh. Che non è detto che. In questo caso acqua non ne aggiungo. Lo emulsiono proprio con l'olio. Ok. Ancora un goccio. Tecniche moderne. Ok. Non vi avete visto. Per tenere il frullatore. E adesso è arrivato il momento di aggiungere La paprika. Giusto da colorare. Proprio un po'. Considerate che questa è paprika dolce. Cioè volendo ne posso mettere un po' Quanto mi pare. Perché. Non. Non è piccante. Ok. Ci siamo. Chiedo scusa. Ok. Ora. Mettiamo. Aspettate che ho dei cucchiai Dentro la lavastoviglia. Pulita eh. La lavastoviglia. Ve lo giuro. Mettiamo. Una bella. Spennellata di crema. Poi. Ci adagiamo sopra. Ne mettiamo tre. In questo caso. Adesso poi guardo in frigo. Perché sono sicura di avere qualcosa di verde. E poi. Mandorliamo il piatto eh. Con la mandorla grande. Così. Ora. Dovrei avere del prezzemolo. Secondo me è qua. Vediamo un po' il mitico Trentini. Esattamente. Allora tendenzialmente io non la uso mai. La foglia di prezzemolo. Perché fa molto anni 80. Opla. Ma in questo caso ci può stare. Giusto per. Dare proprio un po' di colore eh. Eccoci qua. Adesso magari io. Ho esagerato. Un po' con le mandorle. Però il nostro piatto è pronto. È buono. È molto facile da preparare. Sto mettendo un po' di ordine nel piatto. Noi ci vediamo domani. Con una nuova puntata di Chef per Passione. E il mio piatto è fighissimo. A domani. Ciao. 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 Grazie a tutti.